Sono Valentin Luca, un socio della Ratteria Sociale Casale di Bismantova, sito nel comune di Castelnuovo Monti Reggio Emilia. Siamo all'interno del Parco Nazionale Appennino Tosco Emigliano e produciamo parmigiano reggiano con latte esclusivamente di montagna. La Ratteria Sociale Casale di Bismantova è stata fondata nel 1948, all'inizio erano un centinaio di soci, attualmente siamo otto soci conferenti, produciamo tutti i latte da parmigiano reggiano, oltre al parmigiano reggiano produciamo anche ricotta, yogurt e altri tipi di formaggi molli. Abbiamo scelto anche l'indirizzo biologico della coltivazione dei terreni perché ci sembra una cosa normale dato che siamo all'interno di un appennino, all'interno di un parco. lavoro insieme a mio fratello e quasi tutte le aziende della Ratteria sono comunque di indirizzo biologico. Abbiamo aderito al progetto del Parco Nazionale Appennino Tosco Emigliano perché crediamo molto nel nostro territorio. Il territorio per noi è basilare, noi siamo nati in questa zona e ci teniamo a farla conoscere alla maggior parte di consumatori possibili, non tanto per vendere il nostro prodotto ma anche per far capire come lavoriamo. Per intenderci noi abbiamo l'azienda più lontana dalla sede del caseificio sociale e a tre chilometri, per cui non dobbiamo camminare in pianura, fare chilometri e chilometri per trovare del latte, ma facciamo un prodotto che è legato al 100% al territorio. Come Latteria saremo presenti all'Expo a Milano con una forma di parmigiano reggiano eccezionale di dieci anni, dell'aprile 2004, sperando che sia molto apprezzata in generale dai consumatori. Welcome in Appennino! Grazie per la visione!